benvenuti sul mio canale luana dolci riflessi oggi vi propongo un nuovo tutorial un battus veramente molto carino possiamo variare le misure possiamo renderlo anche più piccolo possiamo renderlo più grande e il punto è veramente un punto che adesso ci piace tantissimo il punto granny allora è veramente facilissimo da realizzare perché gli aumenti sono solo da una parte fino a che arriviamo alla parte centrale e poi ci sono le diminuzioni è super semplice ora vi do subito le misure la larghezza è di 30 centimetri la lunghezza non è proprio molto lunga ma di 86 per due cui sono 172 centimetri di lunghezza è una sciarpina perfetta un battus veramente molto carino e facilissimo da realizzare io diciamo è avanzato un pochino di filato per cui volendo si può anche fare leggermente leggermente più larga aumentando ancora qualche giro ma per me la lunghezza era assolutamente perfetta ho utilizzato una cake e questo è quello che avanza della cake che sono 100 grammi per cui possiamo anche realizzare se vogliamo anche delle piccole frange sotto ma anche delle nappine insomma è un progetto facilissimo ma molto carino che possiamo realizzarlo anche in diversi colori con questo filato possiamo farlo in color sky che è un bellissimo bellissimo blu in nero insomma ci sono diverse diverse tonalità allora andiamo a vedere subito l'occorrente e poi al tutorial il filato che ho scelto per questo progetto è la cake color pink veramente molto bella con queste sfumature con un rosa chiaro è un rosa più scuro andiamo a vedere allora sono 100 grammi la cake ha una sfumatura stampata in degradè 25 per cento lana e 58 per cento agrilico 17 per cento poi ammire sono 100 grammi 250 metri consigliano i feri dal 5 al 7 e l'uncinetto dal 4 al 6 questa è la sfumatura e il colore pink uncinetto 6 iniziamo il nostro progetto vi do una spiegazione prima allora la nostra sciarpina avrà un lato dove due righe di avvio saranno sempre uguali fino al termine della sciarpa invece dall'altro lato ci saranno degli aumenti fino arrivare alla punta alla larghezza che ci interessa di più e poi delle diminuzioni le prime due sequenze le vado a realizzare poi dopo per sei righe saranno sempre uguali gli aumenti per cui per sei righe io vi lascio l'asterisco voi andate a ripetere questa sequenza allora andiamo a vedere iniziamo con un nodo ora vado a realizzare 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 realizzate le 6 catenelle noi andiamo a prendere il filo e andiamo a lavorare una maglia alta sulla prima catenella che abbiamo realizzato a questo punto dobbiamo realizzare delle catenelle sono 4 catenelle 1 2 3 4 giro il lavoro e dentro all'archetto vado a lavorare 3 maglie alte prima seconda e terza adesso andiamo a lavorare la sequenza che vi ho detto prima vi lascio uno stedisco da qui in poi dovete ripetere le sei righe fino ad arrivare alla larghezza che ci interessa allora adesso andiamo a lavorare 1 2 3 e 4 giro il lavoro qui ovviamente tre corrispondono per una maglia alta e la catenella per una una catenella di separazione entro nell'archetto successivo che è questo l'unico disponibile andiamo a realizzare tre maglie alte realizzate le tre maglie alte adesso andiamo a lavorare la seconda riga che dobbiamo ripetere anche se abbiamo fatto questa adesso non le considero le prime adesso andiamo a realizzare 4 catenelle 1 2 3 4 giro il lavoro in questo punto in questo archetto 3 maglie alte ora 1 2 3 4 giro il lavoro nell'archetto questo andiamo a realizzare sempre 3 maglie alte una catenelle e vado a lavorare nella 123 terza catenella una maglia alta 3 catenella 1 2 e 3 giro il lavoro entro nell'archetto 2 maglie alte perché le 3 catenelle corrispondono a una maglie alte catenelle ora nell'archetto 3 abbiamo realizzato 3 maglie alte ora di nuovo 1 2 3 e 4 abbiamo 4 catenelle e volto il lavoro nell'archetto qui al centro 3 maglie alte poi sempre le 3 maglie alte con una catenella poi di separazione catenella qui nella ultima maglia che sono 3 catenelle vado a realizzare una maglia alta 4 catenelle 1 2 3 4 giro il lavoro abbiamo l'ultimo l'ultimo diciamo l'ultima riga da lavorare poi si ripete tutto da capo nel primo archetto che a questo vado a lavorare 3 maglie alte una catenella entro nell'ultima 3 maglie alte la prima la seconda e la terza questa è la sequenza che vi faccio vedere e andiamo poi ripetere dove vi ho fatto l'asterisco andiamo a ripetere da capo qui abbiamo finito ora ripeto da capo ripeto da capo la sequenza per farvi vedere per cui abbiamo finito ora 4 catenelle e giro il lavoro per cui ci troviamo sull'archetto successivo e vado a lavorare il nostro punto delle tre maglie alte cui vado a ripetere catenella e sull'ultima vado a fare le mie tre maglie alte prendo un pochino di filo vi faccio vedere di nuovo questa è la seconda ripetizione cui 1 2 3 4 io vi sto facendo vedere di nuovo a cui le tre che il punto grani sempre fatta la catenella vado a lavorare con ci dobbiamo sempre ricordare che l'inizio e la fine della riga dove non ci sono gli aumenti sempre 3 maglie le 4 catenelle 3 maglie 4 catenelle cambia semplicemente la sequenza degli aumenti basta ripetere dall'asse disco fino alla sesta riga e poi si ripete da capo è semplicemente il finale che cambia quando andiamo a lavorare il punto granny dove c'è l'archetto facciamo sempre le nostre tre maglie che faccio vedere anche qui in sequenza adesso qui ecco qua andiamo dove c'è la catenella non andiamo a fare sempre le tre maglie alte punto classico punto grani vedete ma cambia semplicemente la fine di ogni lega ma all'inizio è sempre uguale 3 e le 4 catenelle 3 maglie alte e 3 e 4 catenelle fino ad arrivare alla larghezza che andiamo a vedere sono fermata e ho lavorato 44 righe mi fermo proprio dove al termine diciamo degli aumenti dove vado a realizzare le tre maglie alte da qui adesso in poi vado a fare le delle diminuzioni però se voi volete prolungare io voglio una sciarpina che non sia troppo lunga voi potete prolungare fino alla larghezza che preferite non ci sono problemi allora adesso iniziamo quando arriviamo alle tre maglie alte questa sequenza li possiamo iniziare a fare le diminuzioni come facciamo vado a lavorare 3 catenelle 1 2 e 3 e giro il lavoro girando il lavoro per diminuire vado a lavorare subito nel punto successivo vi faccio vedere meglio qui subito le tre maglie non le vado a lavorare d'inizio non faccio nessuna catenella ulteriore e questa per me già è una diminuzione catenella sempre vado a lavorare fino alla fine la fine resta sempre uguale perché comunque dobbiamo andare dritti vi faccio vedere qui dobbiamo andare sempre dritti per cui come ho spiegato all'inizio non c'è bisogno di far nulla arrivate al termine della riga sempre le tre catenelle più una se resta sempre uguale il nostro nostro lavoro quando nella parte lineare vedete questa parte dritta non varia per cui vado a lavorare di ritorno normalmente arrivati vedete qui abbiamo fatto le 3 catenelle con sotto le maglie alte arrivate qui al penultimo archetto vado a realizzare una catenella e una maglia alta che corrisponde proprio sulla terza catenella ora avvio 1 2 e 3 e giro il lavoro in questo caso vado a lavorare due maglie alte nell'archetto la prima e la seconda lavoro normalmente fino arrivare alla fine della riga come abbiamo sempre fatto per tutto il lavoro adesso che sono tornata indietro sto facendo di nuovo la parte dove vado a diminuire ho fatto l'ultima sequenza delle tre maglie alte poi abbiamo sottostante quelle successive le tre maglie adesso vado a realizzare una maglia alta nell'ultima maglia alta sottostante in questo modo ora vado di nuovo a 32 e 3 giro il lavoro una catenella di separazione e vado a lavorare di nuovo tutta la sequenza fino a tornare di nuovo indietro tanto ripeto la parte dritta la sequenza resta sempre la stessa adesso che sono arrivata alla fine della riga vado entro nell'archetto e realizzo le tre maglie alte questa è la sequenza che dobbiamo ripetere fino diciamo alla fine questa sequenza adesso riprendiamo tutto dove ho lasciato sempre l'asterisco riprendiamo le tre catenelle volto il lavoro entro in quello successivo di archetto e vado a lavorare le tre maglie alte cui ripeto di nuovo tutta la sequenza fino ad arrivare al termine della nostra sciarpina quando andiamo a realizzare proprio l'ultimo punto proprio la chiusura facciamo le tre catenelle giro il lavoro e vado a realizzare una maglia alta e ho concluso e vado a tagliare il filo e la nostra sciarpina è pronta allora è una sciarpina velocissima da realizzare un punto granny proprio di gran moda e come va adesso piccolina che possiamo anche gestire in un modo diverso possiamo realizzarla più piccola come vi ho detto in precedenza ma anche leggermente più larga anche più lunga insomma possiamo variare la misura a quanto ci piace io vi dico che è avanzato un pochino di filato dove posso aggiungere le nappine anche anche centrali la posso mettere qui centrale e laterali oppure realizzare delle piccole frange avanzato un pochino di filato si può si può fare allora ci sono diversi colori potete anche scegliere un colore diverso ma anche un filato un filato diverso nella bassa scelta di filati discount io vi saluto spero che il tutorial vi sia piaciuto potete anche seguirmi se volete su instagram luana non ci riflessi ma anche sul gruppo di facebook un bacione a tutte ci vediamo ai prossimi tutorial grazie a tutti